Musica Unisco gli ingredienti secchi, prendo un contenitore e ci metto la farina 00, un pizzico di sale, del bicarbonato, un pizzico di chiodi di garofano, della cannella, noce moscata, zenzero e mescolo il tutto. La quantità delle spezie la potete decidere voi secondo i vostri gusti personali. Aggiungo il burro freddo e lo faccio integrare alle polveri schiacciandolo con una forchetta fino ad ottenere un impasto sabbioso. Integrato il burro alla farina aggiungo lo zucchero di canna e continuo a mescolare. Posso mettere il miele e un uovo. Impasto il tutto prima con una forchetta e poi con le mani fino ad ottenere un impasto compatto. Non appena l'impasto si sarà compattato lo dispongo sul piano di lavoro e lo lavoro brevemente fino a realizzare un panetto. Non andremo ad ottenere un impasto morbido ma un impasto bello compatto. Ho formato il panetto, lo copro con della pellicola trasparente e lo faccio riposare in frigorifero perlomeno per un'ora. Ho fatto riposare la frolla in frigorifero per un'ora. Adesso la stendo con il matterello nello spessore di circa 3 mm. Realizzo i biscotti. Ho realizzato tutti i biscotti. Li dispongo su una teglia da forno rivestita di carta forno. E se vogliamo appenderli all'albero non dobbiamo far altro che praticare un foro. Magari con il beccuccio di una sac à poche. In questo modo. Direi che posso infornare. Dopo 7-8 minuti di cottura i biscotti sono pronti. Li lascio freddare per 10 minuti sulla placca da forno. E poi li posso togliere per decorarli. Per decorare i biscotti non andrò a preparare la glassa reale. Ma una glassa semplicissima. Con dello zucchero a velo del zucco di limone. Possiamo anche renderla colorata con dei coloranti in gel alimentari. Metto lo zucchero a velo in un contenitore. E piano piano aggiungo il succo di limone. Fino ad ottenere una consistenza giusta. Ecco la glassa. Semplicissima. Pronta in un attimo. Pronta in un attimo. Pronta in un attimo. Direi che posso procedere con la prova a saggio. Mangiamo un uomino. Buoni, semplici da fare. Volendo potete appenderli al vostro albero di Natale come decorazione. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Un bacione a tutti e al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!